i carburanti esso synergy sono i primi carburanti base con additivi carburanti per la prossima generazione di automobilisti scopri di più su esso.com la situazione sulle principali strade e autostrade sulla quattro milano brescia code allo svincolo di sesto san giovanni velezzare in uscita in direzione da torino sulla nove linea tecchiasso code tra como nord e il lago in direzione della svizzera sulla strada di grande comunicazione firenze pisa livorno rallentamenti allo svincolo di lastra signa in uscita in direzione da firenze infine sulla tangenziale di napoli rampa di eccesso chiusa per una perdita di carico allo